Sono Priandria Carta, sono un orafo filigranista. La mia bottega si trova nel centro storico di Cagliari. Questa avventura l'ha iniziata mio nonno nei primi anni del Novecento. Io sono la terza generazione, sono appassionato da ragazzo perché vedevo sempre mio padre che produceva questi durissimi gioielli e ho voluto così continuare questo lavoro e passione. Il nostro must è la filigrana, quindi l'artigianato sardo e soprattutto i disegni antichi, i disegni originali. La filigrana sarda si differisce parecchio dall'orificeria classica perché si utilizzano spessori molto ma molto più sottili, una tensione a volte nei particolari è maniacale. Noi abbiamo deciso di mantenere questo solvo dell'artigianato artistico tradizionale. Quando mi è stato proposto dalla Fondazione Corugne e Costa Crociere Foundation questo progetto l'ho sposato subito molto volentieri e con passione perché la Sardegna ha delle tradizioni artigianali molto molto belle e radicate quindi ci vogliono forze nuove, passioni nuove che vengono poi dirizzate dal tradizionale e questo è una linfa vitale.